Vabbè, comunque, allora adesso vi spiego dove arriva la famiglia. Se percorriamo la striscia di Gaza verso est, entriamo in Toscana, giusto, sconfinandoci alla spesa, entriamo in Toscana, primo paese in massa, benissimo, quando arrivate nel centro di massa non potete fare altro, svolto obbligato a destra, primo, secondo, terzo, semaforo a sinistra, andate ancora avanti un chilometro, c'è un cavalcavia, lo passate, fate un chilometro e mezzo, c'è una rotonda, ne fate mezza, andate ancora avanti, c'è un semaforo a destra, un paio di chilometri, c'è un altro bivio, a sinistra, sono calabresi. Tanto. Però mia nonna, che era una donna molto saggia, mi ha sempre detto, tu non dircelo subito subito in una discussione che siamo terroni. Perché, vedi, nipote, ci sono dei posti dove non è che la prendono proprio bene e siamo terroni. Ora, adesso, Milano no, perché ci lavoro tanti anni, lo so, il calabrese a Milano si è integrato benissimo, cioè la nostra voglia di non fare un cazzo ormai passa totalmente inosservata, anzi, direi che è diventata anche abbastanza contagiosa per quelli nati, stessa cosa in Liguria. Però ci sono dei posti nel nord della Lombardia, dove lavoro molto raramente e chiedo tanti soldi per andare lì, dove il calabrese ancora è visto malissimo. Tempo fa sono stato a Ponte di Legno, veramente, ma hanno detto, mi raccomando, quello che dici, stai molto a te. E io a un certo momento stavo per fare questo racconto, appena ho detto cal, si è alzato uno su e fa, sei un terrone! No, 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 stavo scherzando, perché appena ho detto cal, veramente ho sentito distintamente armarsi il cane di alcune pistole. Lì ho detto, ok, qui il cachet non ha più importanza, bisogna portare a casa la pelle e sai, ho iniziato a pensare veloce, no, no, non so calabrese. Di dove sei? Eh, mio padre è toscano. Di dove? Eh, che cazzo, per me, di un paesino 800 chilometri a sud di Siena. Non mi è mai piaciuto dire le bugie, però a tempo che lui ha fatto i conti, io ero già in magia, ho portato via cazzo, non è che sono proprio svegli da quelle parti lì. Ah ragazzi, essere figli di calabresi è terribile, no è terribile, adesso per me no, però io sono anche degli anni 70, anzi 18 luglio 1972, e negli anni 70 noi figli di calabresi, cioè quelli della mia generazione, sono la prima generazione corposa nata a nord, cioè la prima, dove eravamo proprio tanti, hai capito? Nati al nord, siamo i primi. E non c'è un altro modo di dirlo, è un po' crudo, è diretto, ma fa capire bene la situazione. Negli anni 70, noi meridionali e figli di meridionali, beh cazzo i negri eravamo noi. Eh no, è vero, i negri eravamo noi, sembrava arrivassimo chissà da dove, chissà da che paesi con usanze così diverse. La gente ci studiava, ci guardava con sospetto, circolavano leggende incontrollate, tipo, lo sai che i calabresi coltivano il basilico nelle vasche da bagno? Ma chi cazzo l'ha mai usato il basilico? Non è una roba, no, il basilico non è una roba che si usa al sud, ci coltivano il peperoncino vero, ma il basilico mai, cioè, mai il basilico, mai. Il basilico è una roba genovese con cui si fa il pesto, genovese, l'unica salsa per condire la pasta che non ha bisogno di cottura e quindi di gas, può essere solo genovese una cosa che fa risparmiare il gas, cioè non è, non può essere inventata da nessuna, avete dei dubbi, magari il pesto, chissà da dove, no, è lì, cioè non può esserci, è una connotazione sua. Allora, porca miseria, guarda che, era terribile, no, davvero era terribile, perché poi, com'è ancora oggi, no, noi adesso oggi abbiamo tutti questi straniere, abbiamo paura, poi abbiamo sempre più paura, no, di quello che è diverso. È paura, che sfocia magari alle volte nel razzismo, ma è paura, nasce dall'abirazzismo, nasce dalla paura, di quello che è diverso da te, da quello che non riconosci, è vero, eh? E quindi può nascere veramente dal colore, normale, perché è diverso dal tuo, ma non è che sei più bastardo, lo siamo tutti in realtà, lo siamo tutti. Poi ci sono quelli che lo dicono fieramente e quelli che fanno finta di no, ma lo siamo tutti, è vero, gli anni settanta erano terribili per noi, perché, vedi, adesso ti dicevo, ci sono gli straniere e noi abbiamo paura, e allora tuo figlio va a scuola e magari ha un compagno di classe che è colorato, diverso, no? E tu devi stare attento, tu sei il papà, tu sei la mamma, dovete stare attenti, bisogna stare attenti, bisogna essere politicamente molto corretti anche fra le mura di casa, non ti possono scappare parole tipo negro. Eh no, non va bene, perché altrimenti tuo figlio, che sembra che non stia ascoltando quando dici negro, e in realtà non è vero, sta registrando, perché i bambini sono come spugne, assorbono e rilasciano al momento sbagliato, di solito. Il giorno dopo va, va da Aziz e gli dice negro, e scoppia un merdone allucinante. E con noi funzionava uguale, io avevo un compagno di classe, te lo giuro, avevo un compagno di classe, ogni volta che mi vedeva mi faceva, mafioso. Te sei un mafioso, l'ha detto il mio papà, che quelli come te che vengono da quella terra lì sono tutti mafiosi. È ignoranza o no questa? Siete d'accordo? Questa è ignoranza, è ignoranza pura, anche perché quelli sono i siciliani, noi abbiamo l'andrangheta che è una cosa diversa. No, bravo, perché se no iniziamo a confondere la lana con la seta non va bene, hai capito? Che poi tra l'altro negli anni settanta noi calabresi non eravamo famosi per l'andrangheta. Questa parola, che non si può neanche dire, pensa veramente. Giù a sud se dici indrangheta si svuota la platea, è bellissimo. Io ho fatto la prova, mi hanno portato via di corso dal palco. Davvero, davvero. Perché volevo dire, ho capito, che parola è? Cioè, che cazzo si... Indrangheta sembra un accordo di flamenco, no? È vero? Indrangheta, è bellissimo. Non si può dire, questa parola qui non si poteva dire, non si diceva. Nell'anni settanta non esisteva, ad esempio. Cioè, esisteva, ma nessuno ne parlava, non si sapeva. Noi nel mondo, noi calabresi, eravamo famosi per i sequestri di persona. No, ma con grande orgoglio. Vabbè, che cazzo, i bergamaschi fanno i muri, e noi portavamo via la gente. Ma bravi. Tra l'altro, allora, a contenderci il ricordo, c'era una gara, tra noi e l'anonima sarda. Cioè, l'anonima calabrese e l'anonima sarda. Ne prendevamo uno noi, ne prendevamo uno loro. Allora, adesso io non voglio fare del campanilismo facile, però, anonima calabrese, permettetemi, nettamente superiore a quella sarda. Se non altro per una sorta di questione morale. Cioè, il prigioniero lo trattavamo meglio. No, è vero, è vero. Andate a cercare quelli che erano stati sequestrati negli anni 70 all'Andrangheta. Tutta la gente che è tornata con qualche chilo in più. Perché comunque, anche se ti sequestriamo, in Calabria ti diamo da mangiare. Mettila come cazzo vuoi, ma te lo devi mangiare. Quindi, anche se sei sequestrato, ti sbavaglio e mangi. E' così. Invece i sardi no, cazzo, i sardi no. I sardi non avevano assolutamente questione morale sui rapimenti, sui sequestri di persona. Beh, per dirne una su tutti, che è la prova massima. Cioè, l'anonima sarda osò sequestrare il più grande poeta del ventesimo secolo, osarono rapire Fabrizio De Andrè, che lascia perdere la questione morale. Ma proprio dal punto di vista tecnico, criminale, come cazzo ti viene in mente di rapire un genovese? Dove hai partorito quest'idea così stupida? Che cazzo vi siete fumati in quella riunione? Un genovese? Ma tu te lo immagini il viaggio verso il nascondiglio? Con questo dietro che gli faceva? Ma non c'ho una lira. L'ultimo disco non ha venduto niente. Spende tutto da righezzi. Devo un sacco di soldi a Gino Paoli. C'è sempre Gino Paoli, non è? C'è sempre Gino Paoli. A proposito di sto bandito, non è che avresti una sigaretta?